Animali domestici in difficoltà per il Covid, i loro proprietari non possono più assisterli e le associazioni si mobilitano per trovare soluzioni. Il servizio di Roberta Badaloni. Ciao, sono Sara, la volontaria Leda. Le giornate dei volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente in piena emergenza da coronavirus. Si provvede intanto a quei cani con la famiglia in quarantena, le passeggiate e le visite dal veterinario. L'associazione copre tutta Italia. Ci sono poi quegli animali il cui padrone finisce in ospedale. I volontari provvedono trasferendoli nei rifugi dedicati all'emergenza. Vogliamo togliere loro l'angoscia di non poter provvedere al proprio piccolo amico che si sa è un membro della famiglia a tutti gli effetti. Poi gli appelli di adozione per quegli animali, cani, gatti che rimangono soli, tante storie che il Covid costringe a ricostruire come macchia che in questi giorni ha trovato una famiglia nuova. Inviate subito un sms solidale al 45590 oppure chiamate da rete fissa. Per voi è una piccola cosa ma vi assicuro che può aiutare tanti animali e tante famiglie. Dopo un giorno... 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 Dopo un giorno...